Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci va di essere il ristorante? Posso? L'hai sentita? Che buona. Sicuro? Stai giamaggianto? Amo. E' tardi ma abbiamo fatto una riunione familiare perché Ginevra non studia. Guardatela, guardatela. La furbetta. Guardatela. E tu e lui e lei La nuova Borra Ma sono Que lei non ho le mani, le sue pensiero stupendo, nasce un po' così, si potrebbe tentare di bisogno d'amore, non ho le mani, le sue, il primo posto, poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore, pensiero stupendo, nasce un po' così, si potrebbe tentare, e tu, e noi, e lei, morei, 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 gete e adesso sai che vorrei, Le mani, le sue, e poi un'altra volta noi due. Vorrei, per amore e per ridere, dipende da me. Gesù, ancora è noi, ancora è lei, un'altra volta tra noi. Le mani, questa volta sei tu, e lei... Le mani, le sue, e poi un'altra volta noi due. Vorrei, per amore e per ridere, dipende da me. Gesù, ancora è noi, ancora è lei, un'altra volta tra noi. Le mani, questa volta sei tu, e lei, e lei ha poco a poco di più, di più vicini. Per questione di forse, così si può dire, dirò. Il dado è anche parrucchiere, cuoco, cuoco e feo. Mamma, ma li posso tenere? Certo. Ma guarda che gli aveva lunghe. Certo. Ciao a tutti. Grazie a tutti